Papa Francesco, in latino, Franciscus Pagine, in spagnolo, Francisco, nato Orge Mario Bergoglio, pronuncia italiana barra Bergò barra 2, pronuncia spagnola Teolio, Biolio N1 N2, Buenos Aires, 17 dicembre 1936, è, dal 13 marzo 2013, il 266esimo Papa della Chiesa Cattolica e Vescovo di Roma, ottavo sovrano dello stato della città del Vaticano, primate d'Italia, oltre agli altri titoli propri del romano pontefice. Di cittadinanza argentina, è il primo papa proveniente dal continente americano, 4. Musica, Ludwig van Beethoven, per Elisa. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.